Il futuro dell'intelligence in un momento storico tra l'altro particolarmente delicato, tra burrascosi scenari in giro per il mondo, gli inarrestabili flussi migratori e le tensioni internazionali sulle grandi rotte commerciali al centro di un convegno, un programma lunedì prossimo all'auditorium del rettorato a Chieti ed organizzato dal responsabile settore Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica dell'Università d'Annunzio, Antonio Teti. Lunedì mattina a Chieti il gota dei servizi segreti, dall'ex capo della CIA in Italia, Robert Gorelick, al vice direttore dell'AIS, il generale Giovanni Caravelli, in questi giorni impegnato in una complicata attività di mediazione in Libia tra Aftar e Saraj, il deputato del Movimento 5 Stelle, componente del COPASI, Antonio Zennaro, ma anche il vice comandante del comando per le operazioni cibernetiche del Ministero della Difesa, Ferdinando Munno, il sottosegretario della Difesa, Angelo Tofalo, il noto giornalista, direttore della rivista Limes, Lucio Caracciolo e il direttore del Master di Intelligence dell'Università della Calabria, Mario Caligiuri. Prima di entrare nel merito del tema ci saranno i saluti istituzionali del Rettore Sergio Caputi e del Presidente della Regione, Marco Marsiglio. Si parlerà di intelligence, di intelligence che se fino ad ora ha rappresentato nell'immaginario collettivo un'idea di gestione delle informazioni da parte dei servizi segreti, degli agenti segreti, oggi questo settore scientifico, perché di un settore scientifico si tratta, interessa anche ambiti diversi. Infatti si parla sempre più spesso e si conducono anche operazioni di intelligence economica per le aziende. I partiti, i movimenti politici fanno intelligence politica e le organizzazioni fanno intelligence, profit o no profit, fanno intelligence sociale. Quindi ogni informazione può costituire un elemento cognitivo determinante per un'azienda, per un'organizzazione, per qualcuno che voglia utilizzare le informazioni come valore aggiunto per condurre operazioni di tipo diverso.